Prepara le valigie Beppe, andiamo a Berlino, si va a Berlino Ciao ragazzi sono Luca e oggi metteremo alla prova Mirko e Alice, andiamo Darò loro 10 euro a testa e dovranno essere in grado di farseli bastare per tutto il giorno A mezzanotte, chi mi porterà più resto avrà vinto la sfida Perché? Buona challenge, dove vai? Buona challenge, perché mi hai detto dei soldi? Ragazzi buongiorno giorno, che giorno è? Qua la gente è proprio così un po' malata Perché? Sono molto arrabbiata perché non si capisce niente di questi metro e treni Esattamente 13 anni fa, quasi 14, in quello stadio là, cioè lì proprio in questo, io sto respirando la stessa aria Ovviamente dopo 13 anni, di 24 leoni che hanno combattuto e hanno difeso con onore l'Italia Praticamente nel 2006, avete presente il pianeta Terra? Quanto è immenso l'Italia in confronto è un puntino Nel 2006 quel puntino è diventato campione del mondo, l'Italia, campione del mondo esattamente qui Del Piero, Del Piero, Del Piero Prepara le valigie Beppe, andiamo a Berlino, si va a Berlino E' finita, chiudete le valigie amici, si va a Berlino Beppe, si va a Berlino Beppe Andiamo a Berlino! E poi, campioni del mondo Cos'è che abbiamo vinto in questo stadio? Il mondiale amore, il mondiale E che cos'è che avete perso? La Champions, la Champions la perdiamo sempre Io e te siamo partiti con il piede sbagliato amico mio, i miei amici mi percurano da una vita, basta Fame, allora siamo qui allo stadio dove abbiamo vinto il mondiale, ho una fame incredibile Non so, perché non dici che hai perso anche una Champions? Avevo perso anche la finale della Champions, non so che cosa comprare perché abbiamo solo 10 euro Io ho una fame, li vorrei già spendere adesso 10 euro Adesso sto cercando di capire cosa mangiamo, non abbiamo fatto colazione Questo dobbiamo specificarlo Forse sbagliando perché in questo modo la fame si è accumulata Però io raga penso di perderla questa challenge Cioè metto già le mani avanti così se poi vedete che io perdo Ve l'avevo detto, ho troppa fame, non riesco a... Poi ho i guanti che stanno di curry perché ieri ho mangiato una cosa al curry E ogni volta che cammino mi viene sto odore di curry e mi fa... Adesso li tolgo i guanti infatti Stiamo valutando ma è tutto troppo caro No, stiamo valutando un'altra cosa, se venderò un rene o continuare a vivere E con 10 euro penso che puoi comprare il volantino Dobbiamo andare fuori, secondo me al Mac o da un paninaro fuori Questa challenge è stata una pessima idea E se... ovviamente l'ha inventata lì Cioè dobbiamo fare la fame quando potremo mangiare come i cinghialotti Abbiamo tanta fame Niente abbiamo optato per qualcosa di più economico Ma quindi se io fino a stasera non mangio niente Spendo 0 euro e vinco la challenge In teoria sì, però poi rivica che muori, svieni Non abbiamo neanche fatto colazione e abbiamo troppa troppa fame Mirko come sempre fa l'italiano perché vedete sta sempre a sinistra Anche se bisognerebbe stare a destra Guardate Olaf Bene ragazzi adesso proviamo qui dentro per vedere... No, 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 tu hai deciso che vai qui dentro Io posso anche andare al supermercato che spendo di meno eh Ok, seguite Raga non ce l'ho fatta Un pochino Per qui? Ehm... Scusate? Take it away Take it away, take it away Ma è in inglese? Ehm... no Tu vuoi qualcosa? Ancora? No, no, thank you Quanto? Due ore e sessanta Ops, speriamo di spendere di meno Scusate raga ma non ce la facevo Da stamattina non ho manco fatto colazione Eh, vabbè E quindi io? C'è cosa dovrei dire Beh lascio qua Bye bye Sono orinato Sono orinato C'è del tost in quest'olio Questo olio Ah, bene Fa cagare Ho mangiato i miei primi due ore e sessanta Ed è stata un'esperienza sgradevole Perché faceva cagare Era pieno d'olio E in questo momento sto invidiando Alice Perché io ho ancora fame Come esattamente come prima Però ho speso due e sessanta Alice zero E lei, guarda Sembra spensierata Eh, no Devo trovare un posto che mi piaccia Ma spendendo poco Ovviamente Ho appena deciso Siccome ho visto un supermercato E nel supermercato risparmi Di entrare Sì, ma 59 Questo Ma come fai a sanziarti con quello? Eh, vabbè Sono problemi miei Tra dieci minuti e di nuovo fame 59 centesimi Direi che va bene Possiamo andare Questa qua è l'acqua più Più economica che abbiamo trovato E frizzante o no? Quindi altri 49 centesimi Che si aggiungono Allora, io devo dire una cosa Sì, è vero Che i soldi del mio tost Sono stati buttati Perché potevo evitarmelo Però Cioè Come fa lei a mangiare sta roba qua? Dai, come fa? Eh, scusate Uno può stare a dieta anche un giorno Solo, no? Vabbè Comunque io Ho preso l'acqua Perché era necessaria O avevo una sete Boia Io non bevo da ieri sera Non beviamo da ieri sera È vero Quindi io ho speso In tutto Tre euro e qualcosa E tu Quanto hai speso? Un euro E dieci È buona È buona la galletta Buonissima C'è la Ferrari là, guarda Ma Sei uno stupido Era buonissima È stato un po' di ossigeno Che finalmente Me ne dai Un altro pezzo Veramente Perché mi fa pena Ma non vale ragazzi Così Eh no Mi fa pena Dai È un po' buono Che ha visto il kebabare Naturalmente non riesce a resistere Quale kebab? Non ho parole Ho sgarrato di nuovo Ho sgarrato di nuovo Perché è un porco No adesso vi spiego il mio ragionamento Non l'ho preso così a caso È un ragionamento molto pensato Siccome ho appena mangiato un toast Però ho ancora fame Ho assaggiato una galletta d'alice Ma ho ancora fame Ho detto Io prendo un kebab da 4,50 Che è tantissimo E voi direte Eh ma sei scemo Non ti bastano più i soldi? No Perché dopo questo Non prenderò più niente fino a domani Non prenderò più niente fino a domani Perché penso che con questo No veramente Penso che con questo Avrò abbastanza autonomia fino a domani Quindi secondo me questa qua sarà l'ultima L'ultima spesa di oggi L'ultima spesa di oggi Ma secondo me Tanto io ho mangiato un toast e un kebab Non come te che hai mangiato le gallette Non le hai neanche finite Non le hai neanche finite le gallette Sono piena Cosa devo fare? Non ne vedo più Very good Siccome sono le 19.30 Io ho fame Voglio andare a mangiare Ragazzi mi devo dire Mi devo confessare una cosa Ho fame anche io Cioè non proprio fame come avevo prima Che stavo svenendo Però io qualcosina la mangerei Però puoi prendere solo qualcosa Che sia di 3 euro Ce la farò raga Sei consapevole di non poterti permettere nulla? No stavo cercando qualcosa A poco prezzo giusto Perché ho un po' di fame Andare a letto senza mangiare Non riesco Non prenderò più niente fino a domani Ma giusto qualcosa di poco Alice c'è ancora 9 euro da spendere Raga È stata più intelligente Più che altro Io ho sbagliato Sai cosa? Sono partito male Con quel toast di merda Di 2,60 euro Guardate quanto è bello Io lo prendo Prendo questo E questo Invece ho appena fatto Un'insalata fai da te Qui 1 euro Di 100 grammi Quindi vabbè ovviamente vado Oltre 100 grammi Sarà a massimo 3 euro Ci aggiungo anche i crostini Ed è qua Eh? Come starà andando Mirko? Com'è male Mirko Perché esagera sempre Tu lo sai già Come sta andando Mirko Quindi me lo potresti dire tu No no Ah quindi te lo sai È stata dura Ma vedrete tra poco Adesso saliremo su in stanza Perché qua c'è un casino incredibile Vi faremo vedere Quello che abbiamo preso Io penso Penso Di aver perso Ma non lo so perché Non ho fatto bene il calcolo Scherzo Sì l'ho fatto Ho perso Ma vedrete Bene ragazzi Finalmente siamo arrivati in hotel Fuori faceva freddo E troppo rumore Finalmente possiamo spiegarvi bene Che cosa abbiamo comprato Mirko Perché quella faccia Mirko? Che faccia? Fino adesso Io ho speso Ho speso 7 euro e 59 Tu hai speso 1 euro e 08 Quindi lei ha ancora a disposizione 8 euro e 92 Io ho 2 euro e 41 Sono leggermente Ho perso Vai prendi la mia insalata per favore grazie E comunque io ci terrei a dire una cosa Ok avrà speso anche poco Ma perché ha preso robe Dai ma scusate Guardate che insalata ha preso Piano che me la versi Praticamente con il pollo L'avocado I pomodori La feta È buonissima L'avocado E l'ho pagata 4 euro e 89 Quanto? 4 e 89 È un furto Comunque 4 euro e 98 per sta merdina qua 89 4 euro e 89 è una ladrata colossale No è buona Questi qua sono soldi buttati secondo me Per l'insalata Quanto hai speso 4 euro che lo segno E 98 E 89 Poi cos'hai preso? E no ho preso anche l'acqua Hai preso anche l'acqua 5 euro e 97 hai preso l'acqua Che costava o 14 centesimi e 19 19 19 Ah si cambia tanto vero? 19 taci Hai speso 6 euro e 16 Hai preso qualcos'altro? No basta Tu? E l'hai già vinto Prima così Perché Hai già vinto Anche se io non avessi preso niente Lei avrebbe vinto Ho vinto raga Ok Ho fatto bene a prendere altre cose Io scusate non ce la facevo Ho preso il salmone Quanto? 7,55 Sì ma 7,55 Mettetevi nei miei panni Io sapevo già di aver perso la challenge Ho perso con dignità Sì un po' 7,55 Quindi quanto ho speso in tutto? Sono in negativo Meno 5,14 euro Però Niente Hai preso altro? No Non ho preso niente Vabbè ti mangio il salmone? Cosa hai preso? Vabbè ma era necessario questo Cioè tu hai preso la salsa per gli acchi E da bere? Era necessario Da bere non ho preso niente Perché non avevo più soldi Stai scherzando Te lo giusto Tanto bevo dalla sua Ha preso quell'enorme Scusa Tu mi hai detto Che questa era necessaria Raga 95 centesimi Ah 95 centesimi Questa era necessaria Una bottiglia d'acqua da qui Da 14 di 19 No Ho perso Quindi non ha speso 15 Ha speso 16 Comunque posso dire una cosa Posso dire una cosa No seriamente Non devo dire una cosa Questa challenge è partita male Dall'inizio Perché non abbiamo Non avendo fatto colazione Io ero arrivato a mezzogiorno Alle 2 Che stavo morendo di fame E quindi la challenge è andata Stai mangiando la mia teriaki Ti tolgo un euro Stronza Falla tu la chiusura Io me ne vado Ciao Cos'è sta storia Che tu te ne vai sempre Bene ragazzi Ora si mangia Ciao Ve l'avevo detto Lascia un commento Metti mi piace Cosa ti costa Del che sei capace La coppia che scoppia Se il video ti è piaciuto Lascia un commento E iscriviti al canale La coppia che scoppia Sono noi come noi La vita di coppia Vissuta da eroi La coppia che scoppia È un'esplosione Ficco ad Alice Dentro il nostro cuore Ciao